Oggi vi promuoviamo un dolce fatto con il succo di fichi d'india. Abbiamo già preparato il succo dei fichi d'india rossi. Come sapore diciamo che sono tutti uguali i fichi d'india più o meno. Si sbucciano i fichi d'india, si mettono interi a pollire in una pentola in tempo di ammorbidirsi, non so, un quarto d'ora, venti minuti e poi si passano e passa tutto. Tutti i semini vengono tolti e resta solo il succo. Oggi ho fatto un litro e mezzo di succo di fichi d'india, un litro di latte, 300 grammi di amido, 60 grammi ogni mezzo litro di succo. Il succo e il latte in tutto viene due litri e mezzo. Io ho preparato 300 grammi di amido. Ho messo poi 200 di zucchero, lo zucchero è a piacere. Io ho preparato della granella di pistacchio. Si possono mettere le mandorle, si può mettere le rocciole oppure si può fare semplice senza niente. Sto mettendo lo zucchero, lo immischiamo con l'amido, miscelandolo. L'amido e lo zucchero non forma grumi. Ora mettiamo il latte. Vediamo il mischiare. Vedo perché si scioglie l'amido. Ecco, avete visto come si è scelto bene l'amido con lo zucchero? Non ci sono grumi per niente. Questo adesso ne mettiamo un pochino qua di latte. E l'altro lo usiamo qua a fichi d'india. Adesso mettiamo un pochino di cannella, però è facoltativa. Noi adesso quello che ci avanza, il succo, lo mettiamo nelle bottiglie e lo mettiamo a congelare. Quasi pronti per mettere il latte con l'amido e lo zucchero, perché comincia a bollire qua. Aggiungiamo qua. Ne lasciamo poco poco per metterla di sopra, per guarnire un pochettino. La granella l'ho messa alla fine perché altrimenti non si riesce bene prima a sciogliere lo zucchero con l'amido. Qui cominciano a formarsi le prime bollicine. Quindi aggiungiamo amido, zucchero, latte e in questo caso granella di pistacchio. Ecco qua. Adesso girando sempre perché altrimenti si attacca come altri tipi di dolci. Cominciamo a girare. Appena comincia a bollire la possiamo scendere. Oh, ci siamo. Due minutini e la possiamo scendere. Ci fa bollire prima a fuoco la fiamma più forte e poi la fiamma più leggera. Altrimenti si attacca. Ma poi diventa più scura come colore appena si raffredda. Si può mettere in frigo oppure no a seconda... Ecco qua, adesso mettiamo... Intanto dei gusti, se si vuole mangiare freddo oppure non proprio freddo e poi anche se si deve conservare più a lungo. Nel frigo dura 3-4 giorni. Ecco qua, abbiamo messo la granellina e il nostro dolce è pronto. Grazie a voi, alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.